Un luogo dove poter passeggiare, portare i bambini a giocare, sedersi su una panchina, rilassarsi o correre e fare attività sportiva. Si dovrebbe poter far questo, in sicurezza, godendo della bellezza della natura di uno dei polmoni verdi di Lecce, come il parco Baden-Powell. In teoria si dovrebbe. Andando invece verso l'ingresso di via San Nicola, lo scenario è tutt'altro. Rifiuti e mozzicone di sigaretta buttati nell'erba, sacchi neri con immondizia abbandonati tra i cespugli, fronde dagli alberi che coprono i pali della luce, i gradini dalla scalinata rotti e gli archi in pietra deturpati. Insomma, una situazione desolante che non rende di certo piacevole passeggiare in questa parte del parco. I residenti e anche il gestore del bar presente in via Nicolò evidenzano esasperati come questa situazione continui a ripetersi. La manutenzione viene fatta a metà e tra un intervento e l'altro sporcizia e degrado imperversano nella parte che affaccia su via San Nicola. Un punto che appena il sole tramonta, ci raccontano, diventa ancora più oscuro e l'alta vegetazione copre la presenza di persone che fanno uso di stupefacenti. Non è raro, infatti, trovare siringhe e materiale per il confezionamento. Alcune mamme evidenziano poi come i giochi per i bambini andrebbero cambiati. L'amministrazione quest'estate aveva sottolineato che le giostrine erano costantemente monitorate e mantenute in tutti i parchi, ma allo stato dei fatti, quelle del Baden-Powell, si vede che stanno ancora attendendo questo intervento. E anche i cittadini attendono. Attendono un'attenzione più costante e non interventi spot, magari potenziando l'illuminazione e le telecamere di videosorveglianza per vivere davvero a pieno e in sicurezza questo parco.